From the land of the treasure to the center of London. Ok, in London tonight to meet Market Bike Life, these guys have cycled all the way from Italy, from the market, up to here. How many kilometers? Quanti chilometri? Allora, 2100 chilometri. Abbiamo voluto fare questo evento di promozione turistica attraverso il cicloturismo. Quindi in quattro, siamo partiti dal 27 di maggio da Ascoli Piceno e abbiamo fatto 2100 chilometri fino a Londra in 15 tappe, quindi è stata veramente un'emozione forte e incredibile. 15 stages to cover over 2000 chilometri, an amazing achievement. Well done, congratulations. E poi abbiamo anche lei come ambasciatrice. Sì, con noi abbiamo praticamente appunto Antonella Rutigliano, la nostra cicloambasciatrice che Market Bike Life ha voluto sposare appieno il suo progetto, che è un progetto legato a sport e disabilità. Io adesso lascio la parola ad Antonella che è la miglior promotrice, la miglior comunque testimonial di questo progetto importante che noi abbiamo avuto modo di volere con noi. Sì, certo, certo. Complimenti innanzitutto ai tuoi trascorsi sportivi e risultati vari, io lo seguo su Facebook. Well done on your results, she's an Olympic athlete, so now she's going to let you know about it. Allora, prego. Ciao a tutti, mi chiamo Antonella Rutigliano. Abbiamo sposato i nostri progetti, lui per promuovere le marche e il cicloturismo, io per promuovere lo sport e la disabilità, in quanto atleta paralimpica con un trascorso di qualche successo sportivo. Some very good results in the Paralympic team. Molti anni fa mi è successo un incidente motociclistico e ho perso completamente l'utilizzo del braccio sinistro e della mano sinistra e poi vari problemini sparsi per il corpo che adesso non sto a elencare, ma nonostante tutto lo sport mi ha aiutato ad affrontare la vita in una maniera completamente normale, anzi, forse meglio. Volevo portare la mia testimonianza attraverso quest'impresa che anche le persone con problemi possono arrivare ai loro traguardi semplicemente pensando che i limiti sono solo nella testa. Esatto, i limiti sono solo nella testa, ha avuto un accidente, ha avuto l'occasione, ha avuto l'utilizzo del braccio sinistro, ma ora, con queste attività e la sua carriera sportiva come un Parathlete olympico, ha mostrato che ogni cosa è possibile. E quindi abbiamo dimostrato che le marche sono stupende e io ho dimostrato che nonostante qualche disabilità i successi e i traguardi si possono. Questa è un'amazinga red wine della Marche, dell'Italia. E questo? Ah, fantastico! Lasagne con truffles! In Marche si mangia bene, e dove non si mangia bene in Italia? Guarda, guarda, guarda! Ciao! Ciao a tutti! Per gli italiani, quindi anche a Londra, venite a visitare, no? Qua cosa si mangia, è tutta la specialità delle Marche, quindi? Sì, la maggior parte dei prodotti viene dalla nostra regione, le Marche, passiamo dai salumi a formaggi ai vini e le varie passe con i suoi tradizionali, dal coniglio all'oca, passando chiaramente sempre per il tartufo. La Marche è anche una regione di buoni molto buoni, perché è a bordo con la Toscana, quindi San Giovese, Montepulciano, pecorino grapes, white, red, rosè, tutto, sparkling wine, molte cose diverse da mia regione. E il ristorante è aperto ogni giorno? Il ristorante è aperto ogni giorno, da 10 o'clock in mattina fino a 11, 11.30 in mattina. Come lo facciamo qui a Londra, non è come in Italia, con la mattina, la mattina, il sunbatto, qui è sempre full on? Sì, tutti vengono da la regione di Marche, quindi tutto il ristorante è da la regione di Marche. Quindi non è uno dei ristoranti fatti italiani? Sì, siamo qui per 9 anni, quindi un tempo molto lungo. Quindi venite a visitare, che siano italiani o britani, vengono, delizioso food, buoni persone, e tutto è fatto in Italia. Sì, e poi venite a visitare la regione di Marche. Viva le Marche! Viva le Marche! Sì, ciao! Bye! Sì, ciao! Sì, ciao! Sì, ciao! Sì, ciao! Sì, ciao!